Questo servizio è offerto da AgriService, prodotti e servizi per l'agricoltura a Lentini. Al campo comunale di Zia Lisa a Catania per la ventesima giornata di campionato, il paternò incontra l'atletico Catania, squadra che lo scorso dicembre, come si ricorderà, ha affrontato gravosi problemi di natura economica, tali da portare la dirigenza a rassegnare le dimissioni. Il team atletista ad oggi è composto da juniores e tifosi, che hanno deciso, pur di onorare la maglia, di scendere in campo ed affrontare eventuali e potenziali difficoltà. Per l'atletico Catania in campo contro il paternò, Russo, San Filippo, Rusci, Caloturco, Ficarra, Ravaci, Ferraro, Pulvirenti, Scuderi, Di Mauro, Costa, Pitotella, Schiera in campo, Gulisano, Capozucchi, Miraglia, Minutola ha trovato Balsamo, Lavenia, Villanisi, Trombino, Polat e Castelli. Dopo i primi 20 minuti i rossazzurri si portano in vantaggio con Giovanni Minutola quando siamo al ventunesimo minuto di gara. Di lì in poi si susseguono le reti prima del nuovo innesso classe 99, Sonner Polat, poi al tramonto del primo tempo ancora due reti con le firme di Capozucchi ed il gol di testa e Scapitan Villanisi. Secondo tempo che vede il rossazzurri sprecare diverse occasioni da gol, fra queste il penalty al cinquantesimo, da dischietto si presenta Trombino, il suo tiro viene intercettato da Russo che riesce a bloccare la sfera e respingerla, ed ancora un palo sempre di Trombino che all'ottantasesimo invece realizza il quinto ed ultimo gol che chiude la partita sullo 0-5 per il Paternò. Tre punti importanti e determinanti che portano il rossazzurri in classifica quota 36 in condomino al città di Rosolini distanziandosi da un solo punto da Giarra e Camaro. Partita apertissima e dunque in chiave playoff. Adesso la squadra pensa da subito all'importante gara di mercoledì che vedrà il Paternò in sfida contro la capolista città di Messina. Difficile, c'è incontrare la capolista è sempre difficile, poi col città di Messina ancora di più perché sta dimostrando ogni domenica di meritare questa classifica. Squadra compatta, squadra difficile da affrontare, però siamo consapevoli dalla nostra forza, quindi cercheremo di fare una grande prestazione e di fare bene. Ci si sta avvicinando ad agguantare quella che è la zona playoff, anche i risultati di oggi ci confermono assolutamente in corsa per il raggiungimento di questo traguardo. Ma si fa sempre l'elogio a quello che sarà, bisogna fare l'elogio a quello che è stato fino adesso. È stata dura mantenersi in linea con certi programmi, sicuramente bisognava fare di più, ma è anche vero che la media punti di questa squadra da ottobre è un po' più alta rispetto a prima. Sarà difficile per tutti raggiungere gli obiettivi, anche per il città di Messina, insomma arrivare primi, quindi adesso si entra nel pieno del campionato e essere vicini all'obiettivo iniziale non è roba da poco. Quindi noi siamo consapevoli di questo, sappiamo che siamo in ritardo rispetto a qualche altra squadra, abbiamo meno vantaggio, però non per questo insomma molleremo la presa. Sonner, autore di uno dei gol di oggi, come ti senti dopo questo gol? E già penso stai pensando a quello che sarà il futuro di Sonner nel Paternò. Con me è importante la prossima partita, con il mister, con il staff, ho lavorato molto, allenamento, tanti, importante la prossima partita. A chi dedichi i gol di oggi? Con il mio amico Giorgio Mattasa. L'importante è quella di mercoledì contro il città di Messina, contro la Capolissa, come si prepara la squadra? Bene, bene, l'importante è anche oggi che abbiamo vinto, abbiamo preso dei bui tre punti e ci avviciniamo alla zona play-off, il nostro obiettivo sono i play-off e mercoledì è importantissimo vincere, noi vorremmo vincere, ci stiamo preparando bene, lo staff ci sta, diciamo, dando, vedendo anche il Messina durante varie partite, ci sta dando consigli su come affrontare al meglio la gara e cercheremo di dare, sicuro sudderemo la maglia e cercheremo di fare il meglio per portare, non dico un punto, ma magari anche i tre punti. Grazie a tutti.